Io sono convinta che quando, non voglio dire se, quando entreremo in regione, davvero non solo questa città, le altre città del Lazio e la regione Lazio potrà finalmente ripartire e rinascere. Quindi è con tutto il cuore che io faccio i migliori in bocca al lupo al candidato o alla candidata che questa sera sarà designato o designata e già posso dire chiaramente come faranno tutti i miei colleghi che siamo più che pronti a dare tutto il sostegno che serve e che merita perché dobbiamo prenderci questa regione. Prima Ostia e poi questa regione. Ciao!